Hola 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 da Max e dei Berrofronzo dalla registrazione precedente sono passati praticamente 30 secondi in croce solo che volevo fare un altro video, guardate come screccio sopra me sono un falco, un falco gigantesco tra l'altro, cioè, allora, compariamo le dimensioni un cazzo di tauren è grosso così e questo è il falco, quindi questa aquila ha un'apertura all'area di 27 metri più o meno e va bene, trasformiamoci in un beluga e andiamo a caccia di cosi come vi ho già detto, per chi non lo sapesse, ah sì, salutiamo le persone che ci stanno facendo compagnia quindi, ciao Carbuncles ciao 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 Superbus ciao a tutti e ciao signor Giollaccio bella raga salutate tutte quante queste persone risalutiamo tra l'altro il signor mi pare che mi abbia detto che era Gazz chi cazzo era? Gozzo no, aspetta eh vabbè, qua avevo premuto reload, quindi non so che ladri quanto costa l'apprentice riding sì, è vero, hai ragione non gli si può dare torto questo non serve non ha ancora visto il resto direi che non hai ancora visto il resto tra l'altro dopo se riesco vado a fargli un prestito perché così voi vi pigliate bene e dite ah sì, mi scrivo perché c'è lo youtuber che mi dà i soldi e no perché non ho così così abbastanza soldi però direi che un ventino glielo possiamo sganciare direi che non ci cambia la vita è più o meno la quantità media di soldi che io spreco in sigarette per il mio tauren ogni giorno mi ricordo dal vecchio serb bim, bim otalgan moto vuoto ah no, cazzo aspetta perché ah sì, 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 sì giusto guardate che figata mi trasformo in un beluga e riprendo un fiato quindi adesso io posso stare indefinitamente sott'acqua mentre lo sciamano aveva bisogno di una radice del cazzo e di riemergere a continuazione come avevo già detto tempo fa io rimarrò tutta quanta la vita in questo cazzo di posto in Nagrand perché è il mio posto preferito quindi adesso registrerò 17 video tutti quanti ambientati a Nagrand perché mi piace come posto ed è bellissimo qua una moto vuoto beluga e quindi vi dovete abituare a questa cosa qua insomma, poco da fare non c'è, non so pezzi di elementale per terra no, eh facciamo vedere meglio tutta quanta l'immensità di questo eccolo qua spirito del lago io ogni volta che leggo aggro in grande mi piglia male perché ho paura che ci sia qualche cazzo di ali sott'acqua che tipo mi mi vuole shottare dovete sapere che io prima ho passato non so ore e ore e ore della mia vita tentando di avoidare qualunque cazzo di ali che mi venisse a rompere le palle cioè io ho concluso che essere ali significa essere merde cioè se tu sei ali vuol dire che hai qualcosa di sbagliato che vuoi frustrare che vuoi come si chiama sfogare la tua frustrazione di quando la mamma ti picchiava che eri piccolo si salutano tutti quanti gli orfani che ci stanno seguendo da youtube siamo sicuri che le vostre mamme erano delle brave persone e comunque al di là delle stronzate niente cioè se te sei un ali fai schifo basta perché non vuoi guarda un po' i ali sono tutti ali ecco coglione comunque no il fatto è questo e io non posso cazzo pensare nella mia vita di videogiocatore che vado a rompere i coglioni apposta in una base alleata perché non voglio che gli altri livellino cioè cazzi loro no no e bisogna rompere i coglioni cioè nel senso io posso capire che c'è la storica rivalità che magari non ti stanno simpatici che jolly vuole assaltare da solo iron forger perché gli stanno sul cazzi nani va bene ecco però non può essere che dei fottuti orda di livello 80 che potrebbero passare il loro tempo libero a fare instans vengano nelle basi orda a rompere il cazzo per evitare che gli orda di livello 60 livellino cioè nel senso cosa cazzo ti interessa no no allora spiegatemi voi che mi seguite perché so che tra voi c'è anche qualche infame che gioca orda cioè lo che gioca alleanza scusate che cazzo di gusto ci provate a rompere le palle nei posti dove gli orda stanno a livellare cioè io voglio livellare e basta mi vedete mi vedete io sto picchiando gli spiriti del lago non sto andando a cercare in giro dei fottutissimi alleati per rompergli coglioni no sto livellando vedete moto vuote roshugun crystal power sample basta non sto facendo nient'altro quindi perché voi dovete fare altro perché eh inoltre si cerca un bravo volontario che si legga la wiki del druido che io non conosco non ho idea di come funzioni perché a volte quando credo con le spell mi viene sopra la testa una specie di eclissi che a volte è solare a volte è lunare io non ho idea assolutamente di che cosa comporti tutto questo e soprattutto bam la quest è stata completata e soprattutto eh non conosco la differenza in gioco naturalmente tra aspetta vediamo se mi riesce il trick no volevo cazzo ah perché aveva giustamente il tempo di cooldown aspetta no ah si 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 stavolta ci sono riuscito non conosco in gioco la differenza tra eclissi solare ed eclissi lunare ci sentiamo tra qualche tempo quando effettivamente avrò finito di fare queste missioni e mi trasferirò in un'altra zona ma sempre di Nagrand perché ho già detto che tutte quante i prossimi 50 video saranno ambientati a Nagrand Blessing of Incineratus vuoi che devi distruggere gli hat cosa sono gli H-U-T cosa significano con le capanne ma dai food si ah si 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 mi ricordo di sta missione del cazzo bene a tra un po' a tra un po' jolly devi insegnare al tuo drago a farla nel vasino no perché non ho trovato ancora un vasino abbastanza grande ti tira delle cagate dove vai questo territorio ah si perché io devo andare qua sotto a picchiare i mux pavn cammino sull'acqua no basta jolly non mi riesco da retro la corda bubba 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 che fico è un drago acquatico ne voglio anche io uno sembra che stai ballando la macumba con quel cazzo di drago vuoto da jolly niente mi sembravi un po' preso dalla tua chiamiamola così ma che coglio il drago coptero guarda il drago coptero guarda eh si vediamo peccato che laghi e non si veda bene però si è capito allora e senza di acqua che cazzo è l'essenso vuotero dai stupido essere cazzo io potrei andare in monkey in forma così magari faccio più male per esempio ce l'ho posta e vedi quanto male faccio eh che cazzo quello ha 5.000 di vita dilatate the cloth bracers chissà perché sono dilatati eh beh continuo a replicare che questo cazzo di posto è tipo il più bello possibile o se non fosse per quel cazzo di drago che lagga che tipo mi rovina un po' il panorama jolly niente non è un po' un po' un cazzo di demone qua perché non ti fare domande di cui non vuoi sapere però oddio ah no che è col demone permesso perché vai a disturbare i demoni jolly non lo so il tipo ciò il demoradar che ha fatto plim plim il demoradar la versione dimostrativa di un radar beh i drai sono demoni figli di demoni demoni figlio di un demone sì ma non è quel demone infominion quello che stavo cercando io let's go to the party hard to the up sorry for party rocky eccoci qua dopo una lunga giornata di lavoro tesoro sono a casa che devo consegnare 12 quest allora com'è che ti sei mimetizzato meglio ho preso l'aquila ah che bravo che sei l'aquila pensavo che venissi con una cosa tipo sei volte più caco visiva no 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 non ce l'ho perché sennò sarebbe fermo fermo signor guard 2 gorgoroth non gli posso parlare che palle sto bag guarda che c'ho eh che c'hai ah no no lo snowball non è lo snowboard va bene guarda questo sentiamo ti tira le cacate a forma di spirale con le corna guarda guarda eh andiamo però il pet quello si lo so che hai il pet quello quello blob è forte eccoci qua ah due tenendo è talmente forte che riduce tutte le difese di venti forte agiti intanto non possiamo prendere altro the spirit polluted destroy otto lake surgers forte però questa peccato che è di cloth e non di leather però mi alza leggermente le statistiche boh vabbè sti cazzi e gord bag che però non è questo ma è quello stronzo lì dietro che tal andiamo vediamo andiamo magari mi trasformi in un corvaccio così gli sto più simpatico allora ci avviciniamo quatti 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 ehi dei fermo che avevo bisogno delle sigarette ecco visto no io posso chiedere mangiando la dannazione break take the map basta e quindi adesso che palle o anche voluto lutet è però che belle che è una grande guarda che bella che nagrand cioè è proprio adesso guardiamo che cazzo è quella pallina jolly perchè devi una volta rovinare la mia vediamo quanto l'arrivo club 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 però è come se avessi lanciato uno di quei sassi piatti tipo di sagra che deficiente allora rifarmi rifarmi la domanda max che cos'è il mitre il mitre è uno dei due metalli di provenienza fantastica che si usa all'interno di giochi tipo questo o anche nella fantascienza anziché solamente nel fantasy l'altro è il come sono fatti gli artigli di Wolverine? Adamantio esattamente Adamantio tra l'altro è presente per esempio anche in oddio ma che cazzo ho attaccato il mithril c'è in World of Warcraft c'è in tutta quanta l'ambientazione di Warcraft in generale c'è anche in Dungeons and Dragons però si chiama Mithral se non mi ricordo male e c'è anche nel Signore degli Anelli che quello stronzo di Jolly non ha mai visto come abbiamo ricordato prima tra l'altro oltre alla Adamantio c'è anche un terzo metallo che si chiama Vibranio che anche quello viene utilizzato molto spesso infatti per esempio lo scudo di Capitano America è fatto in una lega di Adamantio e Vibranio insieme una cosa di questo tipo qua e varie versioni tra l'altro Vibranio che si divide in due sottocategorie uno che è un Vibranio particolare che si trova solamente nelle profondità dell'Africa e le cui proprietà vibranti fanno sì che qualunque tipo di metallo si disintegri mentre l'altro è un materiale molto resistente che è appunto capace di assorbire tutte quante le vibrazioni che è quello che è stato utilizzato per lo scudo di Capitano America il Vibranio quello che vibra è capace di distruggere persino l'Adamantio tra l'altro l'Adamantio è stato utilizzato per tipo infinite cose perché oltre allo scheletro di Wolverine per esempio anche le spade di come si chiama quel supereroe chiacchierone tutto quanto vestito di rosso Deadpool bravissimo quello là le sue spade sono fatte di Adamantio Dimitril il Dimitril tra l'altro mi pare che non è la cosa più costosa che è possibile prendere in Dungeons & Dragons però è una delle più costose mentre all'interno dell'universo del Signore degli Anelli è una delle cose più costose e resistenti possibili infatti nel film viene detto che tipo se lui lo vendesse che se Frodo vendesse il suo giubbettino Dimitril potrebbe acquistarsi in metà della Contea una cosa del genere adesso non ricordo le esatte parole purtroppo quindi mi scuserete per la citazione inesatta però stai registrando? sì bene e basta insomma penso di aver detto tutto quello che si poteva dire Mithril boh sì Mithril basta però tipo una cosa che anche ai nani piace molto il Mithril quindi sarà contento Jolly argh argh cos'è sta roba un pirata a cui è andato dietro cazzo vedete Eclipse Lunare c'ho l'Eclipse Lunare sopra la testa non c'è più cazzo cosa c'era scritto? critical hit c'è il suo starfire spell increase del 40% lo starfire quale cazzo è? ah questo è lo starfire ah è forte ma ha un cooldown infinito che cazzo di passiva inutile vabbè quante me ne mancano tra l'altro queste le 10 su 10 e le vabbè a dopo orca puttana 6.000 di vita? veramente? come cazzo lo c'è? ah buongiorno signor what's up polluted essence porco Giuda l'ho fatto arrabbiare chiedo scusa chiedo scusa chiedo scusa va bene si piglia queste mazzate vediamo quanto gli faccio male da una DH beh no si lo smonto il fatto è che anche lui mi sta riducendo a cubetti per vedere se dentro c'è la sorpresa cazzo ok no come my man is low dai almeno per una curetta qualcosa vabbè vaffanculo 900 sono un beluga vediamo se riesco a uscire e trasformarmi sì che bellezza e di nuovo ritorniamo a consegnarle queste e questo sarebbe inquinato vedete ragazzi Nagrant è bellissimo tra l'altro bus dal Mithril si ricava l'Itildin che è tipo la sai quella roba lì allora signore degli anelli miniere di Moria l'entrata è nascosta ed è rivelata solamente dai raggi del sole della luna quello là è Itelin Itelin? che tipo si chiama stella luna cristallo di luna scintilla di luna qualcosa con la luna insomma ho capito che fantasia mori coglione tra l'altro è un metallico in origine elfica ma non sono andato a vedere su wikipedia che palle che non si trova quello che cerco vedi l'Itidil mi ha fatto deviare dal mio ora io ho trovato tipo un sasso gigantesco ma non so bene di che cacchio si tratti sembra un enorme pezzo di ghiaccio adesso ne facciamo l'analisi geomorfologica sembra essere più monolite che altro e tra l'altro spuntato da sotto più che crepato perché che cazzo è? Osho Gun l'analisi cristallografica rivela che non lo so non si guarda dentro cazzo è opaco cioè è grigio ma opaco potrebbe essere grafite un immenso colosso ciccione ed enorme suppostoso di grafite però ci sono anche delle rune che in lingua ananica significano jolly è culo e dovrebbe mangiare la merda eh sì in lingua corrente questa è la traduzione corretta vediamo cosa succede se io mi mollo e poi tento di che figata posso tipo trasfermarmi cinque in aria hai capito jolly cioè il druido vince tutto perché vuol fare oh no non sono più un druido come faccio eh no ma la facca e mi ritrasformo tipo in coso volante capito ma dove cazzo sono sti minions di guldorock questi qua sono degli shattering rumble shattering rumbler shattering rumbler cosa non si fa per l'honor ma cosa c'entra chi hai ucciso sto prendendo schiaffi a tutto spiano solo per finire il bg e fare un po' di honor ma quanto sei coglione io non riesco a trovare allora l sono a 15.000 devo arrivare a 22 euro devo trovare i minions di guldor bla 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 ah peace of the fury or the earth dove cazzo è non l'ho mica vista sta furia dell'earth dove cazzo è non so mappino la furia dell'earth eh furia cavallo dell'earth la furia dell'earth eccolo portal to serve ah huls gordorock boulder ad shattered rumblers e dove cazzo è shattered rumblers m shattered non lo vedo mica ma che cazzo di missione è oh poison rock ah sti cazzi you find the shuttered elements at the edge of the world southwest sud nord sud ovest quindi di qua e allora lo asciugo un cazzo e quindi io cosa devo fare scusa arrivo qua buongiorno e poi gli tiro questo come funziona eh oh cazzo quanto sono grossi sono immensi ma porca puttana però vanno anche giù abbastanza easy aggramone un altro bam ecco aiuto si eclissi lunare solare stellare pimpo vabbè vaffanculo ah comunque tipo quando sei in eclissi devi usare tipo la magia del no devi usare la magia di di quel tipo c'è nel senso quando sei in luna nel nell'eclissi lunare devi usare le magie la tipo la lunar qualcosa e viceversa no cioè praticamente devo tirare sassi e gli elementali ma io non ho magie solare ho solamente la moonfire eh 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 ma quella solare scusa eh ma sblocchi eh ma ancora non la posso sbloccare ma chicchia ragazzi cioè tipo la moonfire è tipo quella di base no cioè la moonfire star fa è quella che spara in continuazione la moonfire eh tieni il mentale di merda anarchy in the uk perchè è salito di livello l'elementale questo non ha senso ma comunque non fanno malissimo sti cazzo di elementalini perlomeno però io sono in manalù questo è male che bella la luna è un po' grande però eh no non morire non morire non morire no prendi tieni ti affronterò a suon di ecco chi rompe paga e i cocci sono di fronzo troviamoci dove sei tu no troviamoci dove oh che.. cazzo c'è il bus grazie si fa molto e si chi si muove aspetta che io allora approfitto per darti un sacco di merda anche che cosa ti posso dare ancora non ho trovato davvero tante si aspetta ecco si non ho idea di che cazzo vedrò cosa si può fare ok nel frattempo guardo anche se tipo c'è qualche qualche altra pietrazza ma non ne vedo no va bene così entra si vai vai aspetta aspetta a te serve la drenite è una roccia a metallo ah scusa devo farti io il trade ma che cazzo che demente hai fatto addio addio vada facca o allora adesso mettiamo qui tutti quanti i nostri pezzi loro per i coglioni adesso metto qua si arrivo aspetta un attimo madonna che rompi i coglioni che sei jolly cazzo madonna perché non sei stato secondo me tu hai sofferto quando eri piccolo te sei nato male no era nato a fine che ti è arrivato poco si gioia il cervello e sei diventato uno scassa coglioni sei troppo diventato uno scassa coglioni jolly puttana miseria mi fai finire la registrazione o no no bisogna per forza rompere i coglioni che fu no cazzo aspetta che tra l'altro devo adesso ecco utenti di youtube adesso voi vi sorbirete tutta la rottura di palle che mi devo sorgere io quando la gente vuole che io venga a giocare alógico il giorno cazzo mando a smart 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 a laenge ma da lavora ha tantissimo amore e verrebbe del genere então no vado mid top mid support gialli no ma date in 5 bottom tanto la patta piace giocare le 3 v 3 vado mid vado mid vado mid chi vado cosa cosa questa ragazza che sentite voi nuovi 400 che vi siete iscritti dopo che ve l'ha detto marcus cron grazie per favore sto cercando di parlare con dei ragazzi che stiamo iniziando la partita quindi non interrompo il coglione allora questa quella patata presentati patata io sono la patata e sono una mascotte si ma spalmati anche del burro sulle tette già che ci sei allora questa ragazzina allora questa ragazzina lo strutto lo strutto questo è car bancos questa ragazzina che dicevamo prima però ha 14 anni 14 anni guardate lo scrivo guardatevi il video che si chiama random power 4 non lo guardate il primo random power il primo random power non so che cazzo il primo random power 4 episodio si vabbè dei quali non so perchè tu sponsorizzi i miei video che ne c'è perchè e se è una mascotte che cazzo dentro va bene allora e anche il video tipo aggiornamenti pavimenti doppimenti che cosa c'entra dove fanno a mascotte mascottare mascottare esatto potresti fare il support mi fa schifo il support mi fa cagare essere un support invece a me piace essere il support sono il più bravo support non posso neanche dire il più bravo support di trieste perchè che ale di trieste quindi tipo allora ho la gente che mi rompe i coglioni dicendo vieni su ts ho quelli su lol che sono francesi non voglio i compagni di squadra francesi non li voglio e pensa quando sono francesi all'inani oh cosa c'è per co però max vorrei dirti una cosa io gli ho detto no un compagno di squadra francese e un amico il mio fratello ha detto beh sempre meglio gli spagnoli no così volevo dirtelo no non è vero un cazzo no no a parte il fatto che francesi e spagnoli si odiano tra di loro ma almeno sono simpatici ah cazzo ho consegnato tutto come francesi scozzesi gli inglesi gli scozzesi gli scozzesi gli scozzesi gli scozzesi gli scozzesi gli scozzesi gli hanno rovinato una scoccia stronza ecco ecco questa ragazzina qui insomma è la nostra amica che viene sempre a fare casino e sono un tuo iscritto saluta lo youtube al what profession iatti wacht profensione have ng and h cioè questi qua sono probabilmente polachi che si scrivono perché non sanno bene vediamo cosa mi è arrivato in posta a nessuno sale pending golden pearl ah c'è qualcuno che mi ha comprato una golden pearl al modico prezzo di 665 gold va bene data io ma non è vero non c'entri niente patate in pece ma quella polacca the bowser intanto saluta il tubo perché 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 si perché è una persona educava perché è una persona sì ciao tubo dreaming glory fantastico te l'ho giocata anch'io ah sì wild steel bloom grazie poi c'è la goltorn madonna quante ne hai trovata di goltorn sei folle eh sì ah ecco grazie i'm a mad bro i'm a mad bro i'm a mad bro no dove è andata la bruce wheat cazzo sei buono coso e quindi mi stai ancora aspettando a veramente mi sta ancora aspettando va bene allora chiudo il video va bene allora lo so che voi voi nooo mi è rimasto un moto vart dentro il cazzo di inventario vabbè the bowser si rallegra e dice alla mamma che è su youtube è dentro il mio inventario me lo sono dimenticato mamma sono su youtube anche io forte e sì allora io adesso voi non lo potete saperemo appena altattabato per andare a caricare lol nel frattempo tanto che si carica lol io vado a prendere le mie skill da druido perché sono arrivato a livello 66 e se ci fossero sei druidi saremmo in 666 il numero della bestia e salutiamo le persone che ci hanno fatto compagnia fino adesso quindi per cui ciao giollaccio ancora non hai chiuso quel cazzo di belle ciao super bussola ciao a tutti ciao carbunclez ciao carbunclez e buonasera alla papapata mi salutata per ultimo non ti parlerò mai più se ti salutavo per prima dicevi a ecco mi sono dopo prima così dopo si la gente si dimentica di me ma allora che cazzo volete voi donne me lo spiegate ma perché non hai mai provato a salutarmi per prima un giorno io vi travesti andò salutata per prima allora salutate tutti la patata dai per prima salutate la patata per prima ciao patata ora che abbiamo salutato la patata salutiamo anche jolly e poi se lo diamo carbunclez e adesso ecco flight form ma ce l'avevo già dovresti offenderti super buss offenditi ma che cazzo va bene ma lo shape shift che molestano verbalmente i propri compagni di squadra perdono il 16 per cento finisci in mondo che cazzo da lo scontato da non è così a me si è buggata la fight flight form potrei prenderla ma non la prendo com'è il mio computer non regge lol forte che bec nuovo computer che ti sei fatto cazzarola life bloom cos'è il target che che ficata regali soli costerni col wifi bellissima cosa fa schifo a me ma adesso che avete parlato dei cazzi vostri bene considerato che null'altro è rimasto a dire da max dei bec per te zitta da max e barrofondo di ossato solo cazzo per cadere da o merda stavo per cadere da thunder bluff non c'è anche da thunder bluff sono caduto si sono andato a thunder bluff perché si è una volta che l'hai in giro si è una